Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono MrFiocco97 e oggi ci troviamo ancora qui sul nostro bene amato Sio Mon Action 3, se non mi sbaglio. E oggi siamo qui, molto calmi, dove continueremo la nostra avventura su questo tranquillissimo gioco, perché questo qua è un gioco tranquillo e allora ragazzi, per evitare di, diciamo, tranquillizzarmi troppo nella prima parte del video, ho deciso di ripartire dal punto in cui ho fermato prima, infatti siamo alla prima bandiera. Oggi vedremo di continuare, non dovrebbe essere troppo difficile, ormai so come si fa, quindi andiamo. Qua so che c'è il cubo, non lo ricordo, perché molte cose me ne ricordo. No, 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 madonna, 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 cristo santo. Non ho usato neanche una vita ragazzi, avete visto? Per arrivare a questo punto qua non ho usato neanche una vita, quindi partivo benissimo e ho carico e partiamo di me, a*****o. Madonna quei bip, penso che li metterò ovunque adesso, cioè, sono nei video di Katmarle, però comunque, madonna. Intanto volevo scusarmi per ieri se non ho caricato video, perché adesso sto cercando di caricare un video al giorno, se riesco, visto che con la funzione di... Dai! No! Mi ero dimenticato! Maledizione. Dicevo, con la funzione che puoi... Pianificata, che puoi caricarli... Cioè, tu li carichi tutti insieme, poi YouTube te li mette... Cioè, te li pubblica quando vuole, quando dici te. Quando ho tempo, mi faccio un bel po' di video. Cioè, tipo, due o tre, e li carico nei giorni a seguire in questo modo qua. È più comodo per me. Adesso ho avuto un po' di impegni, comunque, diciamo che per adesso le verifiche che devo fare a scuola, diciamo, gli impegni di scuola sono quelli più impegnativi, sono conclusi, quindi penso di riuscire a vandare a f***o in questo pezzo di m***a! Vaffan... Pezzo di m***a, gatto! No, non c'è la cosa con il fantasmino che esce, perché il fantasmino che esce è normale che esca, lo sapeva anche che è quel gatto di f***o, ma quel gatto di m***a è un gatto di f***o! Olè! 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 Vai! No! Madonna! Non riuscirò mai a passare questa minchia di pezzettino! Ci vogliono tre secondi, non è possibile! Non è... No, dove vai? Dove vai? Dove vai, gatto di m***a? Dove vai? Dove vai? Stai fermo! Ragazzi, ho avuto un po' di... Ancora, non vi preoccupate, ho ancora la tastiera del Mac, quindi aspettatevi di vedere fail solo dovuti ai minuscoli tasti del Mac. Ok? Ok, adesso salto di prima. Ok, fermati, fermati! Grande! Grande, gatto, grande! Adesso so già che ci sarà un migliore... Qua c'era la pianta, ok? Aspetto. Adesso cosa devo fare? Adesso qua? Salta... No, fermo, fermo, fermo. Uccidiamo questo. Ok. Ok. figlio di cou... Madonna, 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 madonna... Madonna, madonna, madonna... Dio mio Santissimo Benedetto, Cristo Santo, calmati, 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 calmati... Aspettiamo che passano la banda qua, la banda Bassotti, che erano in tre loro, però vabbè, non gli interessa. Andiamo con calma, calma, salta, bravo, 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 con calma, olè, vai, ok, perfetto, salta, ok, vai, vai, fermati, fermati, fermati. E perché? La Saga 9, perché sono morto? Ma perché Cat Mario è un gioco di merda? E perché non si ferma con il gattino? E sapete perché? Baffan***a! PORCA PUTA**a! Mi sono fermato per rincominciare il video, cioè a parlare, per dire che è arrivato fino a quel punto, e cazzo, non si è fermato! Questo gatto di merda! Non si è fermato! Perché? Poi con la pianta delle minchia che sapevo che usciva, perché? Madonna, Cristo santo! Baffan***o! 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 Ragazzi, mi sono rotto la minchia, mi sono rotto la minchia di questo gioco, ho iniziato la serie su questo gioco di merda, e giuro che se tornassi indietro non lo farei mai! Adesso la voglio finire! Per principio! Solo per sfottere quel gatto di merda che mi... Guardate, guardate quando si muove! È tutto storto, camminavate! Che cazzo è quella roba là? Madonna! Calmo, calmo! Ok? Basta, adesso mi sono ingazzito troppo adesso! Lo faccio tutto di filato, vai? Ok? Vai, fermo, fermo! Ma perché? Perché proprio a me? Perché? Ragazzi, io taglio! Ci vediamo dopo! Devo riprendermi a te! Allora ragazzi, sono calmo adesso, andiamo! Saltiamo questo figlio di puttana! Cosa devo fare? Cosa devo fare? Allora, qua sto... Mi ricordo... Dov'è che cadeva il pavimento? No, calmo, calmo! Ok! Ok, andiamo avanti! C'è una bandiera là? Sì! Ok! Allora, va... Oddio! Ma che cazzo? Cosa devo fare qua? Ah! Ho capito! Tell me all! Oddio! Cosa devo fare qua? Un ponte? No! Sali! 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 Ok! Ho capito! Devo fare un ponte! Ah, ho capito! Penso che quel guscio serva a qualcosa, eh! Come faccio però a salire qua? No, come faccio? Ok, torno qua! Ah, ok, ok! Ah, perfetto! Ho capito! Ok! E adesso però devo stare attento, perché come faccio a salire qua? Ah, ci sto da dietro! Da lì! Ok! Ok, perfetto! Eh, però anche là mi sai, fratello! No! Merda! Ok! Cosa devo fare? Ok, 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 ti seguo, ti seguo, fratello! Ti seguo a ruota! Ti seguo a ruota! Cristo santo, santissimo, porco... Ero salito! Ero salito! Tastiera di merda! No, non la bippo questa parolaccia, non la bippo, perché mi fa talmente incazzare, Tastiera, che non la sopporto più, tra un po' spacco lei, tra un po'! Altro che il tavolo! E che Mario, vaffa... Oh, gioco un attimo al telefono, ragazzi! Guarda un attimo su Facebook, allora, vediamo... E palla che si va ultimamente di cose di Ask, sotto le minchie, con divisione di Ask... No! Sì, bravo! Non ho capito, però c'è... Allora, abbiamo finito qua? Sì, andiamo! Ok, calmi, calmi, calmi... Vediamo se riesco a non tagliare questa scena... No! Ancora! Ancora, Dio! Ma... Non ero più nessuno? Ah, ma c'era il trucco? Sì, ok, ok... Vaffanculo a tutti quanti! Vi ho smerdati tutti, pezzi di merda! Vai, vai, vai! Ok, fermo! Grande! Ok, qua c'è il pezzo di merda con la pianta, ok... Qua c'è Super Saiyan... No! No! Mi sono dimenticato! Come alla fine del primo episodio! No! Questo santo, se gioco qua... Non lo sopporto più, ragazzi... Basta! Io... Me ne vado in pensione... Me ne vado in pensione, basta, basta, basta... Lascio la carriera di youtuber a Metal! Fabio, se guardi questo video qua ti dico subito che... Nel link troverai... Nel link... Nel link... Però dico... Allora, dai... Basta! Ragazzi, ci vediamo quando riesco a raggiungere la bandiera! Vai, dai! Vedete? Vedete? No! No! Ho premuto l'esca! No! 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 Bella a tutti, ragazzi! Ciao, ciao! Ciao, ciao!